Ciao a tutti amici di animazione compleanni, in questo tutorial vi mostrerò come fare una bella tartaruga marina con i palloncini modellabili. Dobbiamo iniziare facendo gli arti della tartaruga. Questo sarà uno degli arti inferiori e questo invece una pinna da lonti. Dobbiamo fare con un palloncino verde sgonfio di 3 o 4 dita, facciamo uno di questi, quindi calcolate 6 dita, fate la torsione, poi fate una torsione ad una distanza un po' maggiore e unisce insieme l'inizio del palloncino con la torsione. Poi lo passiamo all'interno, spostiamo l'aria verso la fine del palloncino e con un paio di forbici tagliamo il palloncino. poi facciamo un nodo sia nella parte che c'è rimasta che nella nostra pinnetta piccola. E con questo palloncino che ci rimane dobbiamo fare una pinna grande come questa. Quindi, circa 16 dita, fate la torsione e poi unite la fine del palloncino con l'inizio. Ecco qua. Adesso prendiamo un palloncino marrone, sgonfio di 4 dita alla fine, e facciamo una pallina e lo facciamo girare su se stessa. Poi andiamo a prendere una delle nostre pinne piccole e andiamo ad ingastrarla tra la pallina e il resto del palloncino marrone. Poi, ad una distanza di sedita, facciamo la torsione. Un'altra pallina fa tagliare su se stessa. Prendiamo l'altra pinnetta piccolina, la infiliamo all'interno del palloncino marrone e andiamo ad incastrare anche questa. Prendiamo l'altra palloncino marrone e andiamo ad incastrarla dove c'è la prima pallina marrone. Adesso prendiamo un altro palloncino marrone, anche questo sgonfio di 2 o 3 dita, lo uniamo in questo punto e facciamo una piccola pallina rotonda, seguita da una torsione a una distanza di 6 dita, come quella che abbiamo fatto prima. Prendiamo fermo questo palloncino, facciamo una pallina anche nell'altro e uniamo insieme la pallina con la torsione. Con l'altro palloncino facciamo un'altra torsione a distanza di 6 dita e scappiamo di posto queste due parti. Continuiamo in questo modo per fare tutto il gusto della nostra tartaruga. Quando siamo arrivati a fare 4 strigione da una parte e 4 dall'altra, facciamo in ogni palloncino, sia in questo che in questo, una pallina fatta girare su se stessi. Adesso, con le forbichi, facciamo uscire l'aria che rimane. e facciamo un nodo. e facciamo un nodo. e facciamo un nodo. Adesso insegniamo le nostre gambette dietro e andiamo ad attaccare nelle ultime due palline fatte girare su se stesse che abbiamo fatto anche le pinne anteriori. Ok, adesso prendiamo un altro palloncino verde e andiamo ad inserirlo all'interno. Poi prendiamo la distanza di tre dita, facciamo la torsione, poi facciamo due palline fatte girare su se stesse, una, e due. Prendiamo a questo punto un palloncino rotondo bianco e lo dividiamo in due parti in modo da creare i due occhi della carta ruta. Poi un palloncino verde prendiamo a distanza di cinque dita, facciamo la torsione, poi facciamo una pallina quasi rotonda e un'altra parte un pelo più lunga, un'altra pallina di due o tre dita. Posizioniamo gli occhi e andiamo a chiudere il palloncino verde e attaccandoci alle due palline fatte girare su se stesse. Sempre con le forbici tagliamo la parte di palloncino verde che ci resta, facciamo il nodo e tagliamo. Ecco qua, la nostra tartaruga è pronta, non ci resta che disegnare due begli occhi con un pennarello adatto ai palloncini. Ecco qui, la nostra tartaruga marina è pronta per farci una bella nuotata. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao a tutti e al prossimo video!